Italia Nostra, il Comitato Salvaguardia dell'Olivaia, il Comitato per lo Sviluppo Sostenibile e WWF Trentino con una nota sono intervenuti in riferimento alla risposta ricevuta da AMSA alle sollecitazioni circa la variante urbanistica dell'Infano. Sarebbe stato lecito attendere la replica dell'amministrazione comunale, commentano gli ambientalisti. La confusione dei ruoli produce solo effetti negativi. Peraltro, insistono, la disciplina urbanistica prevedeva la liberazione di un terzo dell'area destinata a campeggi per dare maggior spazio alla spiaggia libera e la riorganizzazione delle attività del circolo velico e della ricettività alberghiera. Secondo gli ambientalisti non vi sarebbe traccia nelle disposizioni del precedente piano di hangar, alti 12-15 metri per il centro velico di un centro commerciale per la nautica di 5.000 metri cubi di nuovi centri commerciali da realizzare in fascia lago.